Ci troviamo questo pomeriggio a Borgera Torinese sulla pista Pietro Mennea, ospite dell'Atletica Venturoli. Con noi abbiamo Gennaro Sorrentino, un team manager della società dell'Atletica Venturoli. Gennaro, l'Atletica Venturoli è una delle formazioni più in voga in tutto il Piemonte? Sì, diciamo che l'Atletica Venturoli vanta un'attività sul territorio piemontese di circa 40 anni. Ci possiamo definire una delle società storiche in quanto siamo una delle più vecchie rimaste sul circuito. Come avete potuto vedere abbiamo una scuola, una vasta area giovanile un vasto numero di atleti che vanno dai 6 anni ai 17 anni. Ci alleniamo per ottenere appunto dei risultati come abbiamo avuto quest'anno. Sulla fase di questi risultati che tu hai appena citato, il 2018 è stato per voi un anno molto importante? Sì, quest'anno è stato un anno dove abbiamo ottenuto diverse qualificazioni a livello nazionale nonché un primo posto come campionessa italiana di Quaceci Elena che ha vinto nella categoria Juniors nel 2019. L'anno scorso invece ha corso, sempre con i campionati italiani di corsa campestre, abbiamo corso a Correggio in provincia di Perugia e ha ottenuto il secondo posto nella categoria allievi. Quest'anno è passata di categoria, quindi ha gareggiato nella categoria Juniors e ha ottenuto un ottimo posto, una magnifica prestazione. Pensiamo che nel 2019, nei mesi di giugno, dovremo fare un altro campionato italiano, questa volta lo faremo su pista e andremo a Firenze con la precisione a Campi Bisenzio e anche lì cercheremo di portare a casa qualche altro titolo a Borgaro. Elena, una giovane campionessa italiana, da quanto tempo pratiche questo sport? Da circa tre anni. Tu ti sei laureata campionessa italiana nel 2018? Sì, nella gara di Venaria Reale, sono passata in categoria Juniors quest'anno e cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto. Qual è stata la cosa fondamentale che ti ha portato a diventare campionessa italiana? Beh, sicuramente partecipare a tutti gli allenamenti, ascoltare il mio allenatore che è in gamba. Progetti per il futuro? Sono al quarto anno del liceo linguistico Giordano Bruno e penso che andrò all'università e speriamo in bene. E invece in campo sportivo? Il campo sportivo continuerò con l'atletica perché correre mi rende libera, mi sfogo e adoro lo sport da sempre e continuerò a farlo. Gennaro, in conclusione, tu hai tanti piccoli ragazzini, questi saranno gli campioni del futuro? Questi qua sicuramente saranno campioni del futuro, però non bisogna dimenticare che loro fanno dei sacrifici, anche se è uno sport che loro lo prendono dai sei anni, cominciando dai sei anni, lo prendono come un gioco. Però bisogna instradarli in questa maniera. Si augura che diventino in futuro anche loro dei campioni, perché nel campo dell'atletica abbiamo bisogno di un ricambio, perché gente che corre da diversi anni ormai è un po' arrivata alla frutta, ma non nel senso che non sono più bravi a correre o che non ce la fanno più, ma proprio per il fatto che questo è uno sport che a livello di usura si fa sentire molto, specialmente negli anni. E quindi questi bambini, nonostante che loro fanno dei sacrifici e tutto, bisognerebbe comunque riconoscere che fanno dei sacrifici e bisogna appunto dargli un qualcosa per farli continuare a correre. Noi ce la mettiamo tutta insieme ai miei collaboratori, Rosario, Michele e Gianluca, affinché loro riescano a raggiungere questi obiettivi. Poi se sono fiori, fioriranno e ognuno poi farà la sua strada quando sarà il momento. L'amministrazione comunale in questi anni è stata molto attenta all'atletica Venturoli? Devo dire di sì, diciamo anche perché come associazione siamo il fiorello e l'occhiello di Borgaro, lo si vede qua mercoledì e il venerdì in pista, che è una macchia tutta rossa, anche se i papaveri non ci sono ancora, ma ci confonderemo poi più avanti con loro. Devo dire che sono abbastanza attenti nelle nostre richieste e ci accontentano abbastanza. Il nostro sogno sarebbe quello di avere una vera e propria pista di atletica leggera, però siamo sempre lì. Spereremo in un domani un qualcuno, qualche giunta comunale o un benefattore che ci possa regalare questo sogno. Prossimi imminenti impegni? Prossimi imminenti impegni, a parte le domeniche noi non ci facciamo mai mancare nulla e i prossimi impegni saranno appunto quelli di Firenze a Campi Bisenzio dove andremo a gareggiare per un altro titolo italiano in pista. Grazie. 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 Grazie.